C'è una serie su Netflix che ha attirato moltissimo l'attenzione degli spettatori arrivando addirittura nella top 5 delle serie tv più viste della piattaforma streaming Salve a tutti ragazzi e bentornati su Ciaccazione Io sono Valerio Berrone e oggi volevo parlarvi del Sarto una serie tv turca che in quest'ultimo periodo è nella top 10 delle serie tv più viste di Netflix Questa serie tv racconta gli avvenimenti che si incentrano su Paiami un sarto di fama internazionale che dovrà realizzare il vestito da sposa per il matrimonio del suo miglior amico Dimitri Lui però non sa cosa si nasconde dietro l'unione dei due e quindi si troverà immischiato in mezzo a un turbinio di avvenimenti che lo porteranno a un tragico finale Questa prima parte di stagione vede anche protagonista Mustafa il papà di Paiami di cui non vi anticipo niente il sarto parla anche di temi molto importanti come il mattrattamento in famiglia cioè la violenza familiare la diseguaglianza a causa di determinate condizioni di uno dei membri della famiglia non farò spoiler in questa parte e in generale nel video perché vi voglio lasciare la sorpresa perché è bello scoprire il sarto man mano che si va avanti una serie che vi prenderà assolutamente e vi terrà attaccato allo schermo perché inaspettatamente vi ritroverete con i denti stretti a temere per quello che possa accadere ai personaggi Paiami quindi dovrà in qualche modo riuscire a coadiuvare la sua vita da sarto con quella familiare che invade la sua normalità e la sua quotidianità come una meteora che colpisce la terra perché gli stravolge completamente la vita che a lui aveva lasciato alle spalle quando era bambino scoprirete man mano con molto piacere quello che accadrà a Paiami ad Esbet che è la ragazza di Dimitri il miglior amico di Paiami e appunto a Dimitri insieme a Mustafa che è il papà di Paiami per chi ha visto la prima stagione vi ricordo che la seconda parte di questa stagione arriverà il 28 luglio su Netflix e quindi probabilmente ne vedremo delle belle visto anche come si è conclusa la prima parte ragazzi io vi ringrazio per avermi seguito fin qui vi ricordo di seguirci sul canale mettere un mi piace se vi è piaciuto questo video e di lasciare un commento se avete visto la serie tv e cosa ne pensate per me un bel 7 e mezzo se lo merita tutto perché non me l'aspettavo e magari essendo una serie turca un po' il dubbio di tieni a guardarla ma vedrete non ve ne pentirete assolutamente io vi ringrazio nuovamente da Valerio Perroni e da Ciaccazione troverete tutti i link in descrizione qui sotto sui nostri canali social quindi mi raccomando seguiteci ciao a tutti